Sono state per il momento sospese le procedure volte al recupero delle somme erogate agli agenti di Polizia Municipale a titolo di indennità di miglioramento relative all'anno 2013. Le decurtazioni in busta paga sarebbero dovuto scattare già con lo stipendio di giugno e la decisione assunta dall' amministrazione comunale al termine di un tavolo richiesto dalla Will Funzione Pubblica cui hanno preso parte da un lato il sindaco Angelo Danne, il segretario generale dell'ente Marco Puglisi, il comandante della polizia locale Maurizio Cannavò, il dirigente dell'ufficio legale del comune Giuseppe Panebianco. Dall'altro lato invece i rappresentanti sindacali Alessandro Spina, dirigente provinciale della Will e Rosalba Patanè, RSU Will Funzione Pubblica. La decisione di sospendere le procedure di recupero delle indennità erenamente liquidate nel dicembre del 2016 trae origine da una serie di situazioni anomale che richiedono comunque un approfondimento a cominciare dalla mancata notifica del piano di pagamenti mensili con un demito in busta paga per 12 mesi a sette agenti di polizia locale alcuni dei quali andati di recente in pensione e altri invece trasferiti in altre sedi configurando a parere dei sindacati di categoria anche la commissione del reato di omissione dati d'ufficio. La Will, a tal proposito attraverso il proprio ufficio legale, aveva già diffidato l'amministrazione comunale nei giorni scorsi. Come conferma il dirigente provinciale della Will Funzione Pubblica Spina, la procedura di recupero delle somme corrisposte a complessivamente oltre 71 mila euro era del tutto illegittima. In ragione del ricorso avverso la determina della quarta aria del giugno del 2017 che gli agenti di polizia locale hanno presentato già da tempo al tribunale del lavoro. Sotto l'aspetto procedurale poi abbiamo anche sempre contestato l'assenza di trasparenza nell'acquisizione degli atti che abbiamo richiesto. Risultano inoltre assenti quelle note tra l'ente comunale, la corte e le conti riguardo le indenità sul piano di miglioramento dei servizi della polizia municipale relative all'anno 2013 del potenziale danno erariare riscontrato dai magistrati contabili. Dal canto suo l'avvocato Giuseppe Paribianco a capo dell'ufficio legale del comune commentando l'iniziativa assunta dall'amministrazione comunale reputa che la decisione di sospendere i recuperi delle somme adottate dal sindaco d'Anna sia comunque di carattere cautelativo in attesa comunque di nuovi approfondimenti. Ritengo, dice Paribianco, sia comunque ragionevole anche sotto il profilo delle opportunità.